Dottor Annibale Lettieri Una zingarata su un volo per Firenze No ma che mi diche seriamente o mi figliate feiculo mi figliate? Un problema alla vista e un incontro che lascerà il segno Buongiorno Buongiorno sono la tua insaclan in sastelli, ha chiesto lei di me? Eh si perché uccido una sega Soluzioni non apprezzate Eccomelo Cari miei occhiali Un turbinio di brividi e passione Che viene anche te Un thriller al cardiopalma Eccola vuoto guarda Mi scende le scalette ora Buona Signor Lettieri Il silenzio degli astigmatici Da settembre nei peggio cinematografi Eccola vuoto guarda